Primo lunedì di Mondiale con sorpresa. Contro ogni aspettativa le strade sono deserte. Infatti, la maggior parte dei fiorentini ha deciso di abbandonare la macchina e salire in sella alla bici. I mondiali ciclismo sono una grande occasione anche per diffondere in questa città l'utilizzo della bicicletta. Oggi è una giornata nella quale poche macchine hanno circolato a Firenze e la gente si è mossa lo stesso. Quindi è possibile muoversi a Firenze anche senza macchina. Questa è la grande lezione di questi giorni. Quindi, come dice il vice sindaco, questa potrebbe essere l'occasione giusta per mostrare ai cittadini che è possibile vivere la città anche in un modo più ecologico.